Salve a tutti ragazzi, io sono Leo e questa è un'altra puntata con una demo, questa volta di Half-Life Well, let's just say your hour has come again The right man in the wrong place can make all the difference in the world So wake up, Mr. Freeman Wake up and smell the ashes I didn't see you again I didn't see you again It's happening Some people are not good I don't know, but I'm not going to say B I don't know, but I'm not going to be here Ok, where's that right? Welcome, welcome to the city 17 onete con una base per rilogare si quello è stato importante i noi potroviamo segnare la città 17 i tuoi abitare la città 17 vediamoci la città 17 io ho non ci ha fatto sia la città 17 ma casa e quindi tu sei qui per arrivare o passiamo non mi guarda tanto ok, che cosa devo fare? dobbato il latte oh no è un gioco futuristico quando fa oh no credo che questa vuole adesso mi tirerà è un gioco è un gioco hai a fia vai pecare ok da dove vai ora sono bellissimi buona no che va ovと No! No! C'è da un testamento che c'è da... Che ora è questa cosa? Un libro, un libro Cosa mi fate fare? Maggiorazione E' questa Basta questo Non lo devo più vedere Via Non lo guardare Cosa mi ha detto Dio e io Cosa 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 voto di popolo con il titolo il progetto mi chiede raccordi trasporti euro credono carlo non no no ok non voglio rilanciare no 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 vabbè finiamo da fare cazzate facciamo la fila no che è questo vabbè sembra bello questo gioco non lo so prima voglio vedere che sono contro il fuoco che non sono qualcosa del genere poi c'è questo gioco potete dare la palma che sarebbe bello per la prima volta come una specie l'immortalità è in il nostro questo fatto semplice ha mai raggiunto l'indicazione che si può fare che si può fare che si può fare che si può fare ma chi è che parla questa cosa vuoi cosa vuoi ho fatto perché non lo vado io staccia questa democra la volevo cuba fare poi faccio un video e il like però devo succedere queste cose non lo so non lo so come lo sapete morire qui ok hey calma bello cosa se che mi soddisfa sessualmente ora ci va sopparli come si è passato? come si è passato? come si è passato? vieni qua vieni qua vieni qua ahia, si è rotto non abbiamo dato video non è giusto dovuto riprendere non è giusto, non è giusto non è giusto non è giusto non è giusto ecco si, faccio qualcosa oddio, oddio, oddio non voglio vedere niente non ho visto niente questa è la cosa sempre iniziamo prima il bambino e poi il tutto non hanno riuscito a fare niente oh, ceccio bello, vieni qua no, non ho preso basta, non ho capito, io non ho fatto niente vai, no, no c'è una scarpa oddio quasi qui oh abbiamo già 9 minuti e 50 vabbè noi andiamo a rather home ok, si lo dici tu facciamo questo già è finita la prima parte di questa demo già la prima parte nel gioco non nel video non dovrebbe sinceramente se farlo finire qui il video se fare una prima parte è qui però comunque qui vedo proprio che arrivi in canzione cos'è questo? come si ricarica magari? adesso mi fanno parte tutto così io non ci capisco oh che bello che è questo? ciao bel coso squartato ok vediamo tutte queste brutte cose incertizzate un po' e vediamo dio ok si come mostri va pure bene sono tutti molto strani non capisco quale sia la storia di questo gioco ma che da lette vuole ci sia stata qualche infezione perchè sono arrivati a tutti questi morti non lo faccio sinceramente spero si può mirare? si può mirare? ora spegniamo la torcia vediamo dove dobbiamo andare si è abbastanza figo come gioco sinceramente ma devo andare qui? allora possibile usare non si faccia come di abbastanza ma boh allora forse si sparò lì non c'è niente c'è niente c'è niente c'è niente c'è niente cacchio cambiano arma ok questa è una più figa allora dove devo andare? vabbè facciamo una bella cosa facciamo finire la prima parte qui e nella seconda parte vedo dove devo andare ok quindi arrivederci grazie a lei arrivederci grazie a lei grazie a lei